Salve, siamo qui nella sala parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa che da dopodomani praticamente si chiamerà il sipario di Sandro e Regina e inaugureremo questa sala con questo nuovo nome, con uno spettacolo, lo stesso che fu presentato 60 anni fa dai nostri genitori un omaggio a William Shakespeare dopo 460 anni era la sua nascita ci saranno 60 attori con noi divisi in due serate e quindi vi aspettiamo numerosi i posti devo dire la verità sono pochi, sono rimasti pochi e ne siamo contentissimi e questi sono alcuni dei ragazzi che ci terranno compagnia 60 attori che hanno fatto parte del Teatro Popolare Salernitano nell'arco dei 60 anni in diversi periodi quindi vedremo dai più giovani ai più meno giovani e quindi vi aspettiamo numerosi